ciao a tutti eccoci qua con un nuovo tutorial questo come ho promesso ieri ho fatto apposta per vedere chi è interessato avere il tutorial di questa maglia ebbene ho visto che siete in tanti intanto per prima cosa volevo dire grazie a tutti per gli auguri che mi state scrivendo su facebook e su whatsapp in tanti grazie grazie e poi un altro grazie soprattutto perché mi state veramente seguendo non me l'aspettavo sinceramente io sono anche molto emozionata volevo anche dire grazie a tutte le persone che si sono iscritte a tutte le persone che mi stanno mandando le amicizie veramente siete in tanti grazie niente parliamo di questa nuova maglia questa maglia l'avevo messo non mi ricordo se il 25 il 26 di luglio l'avevo fatta e scritto delle spiegazioni così però era bello avere il tutorial di questa bellissima maglia io l'ho fatto in due colori come avete visto all'inizio delle foto del mio tutorial io metto delle foto perché come ho detto il mio tutorial deve essere seguito da tutti e per cui spero che sia benvenuta anche con delle foto qualsiasi cosa può far capire come seguirci come seguirmi almeno spero di farmi capire soprattutto niente adesso vi faccio vedere la maglia così vederla è un altro da un altro senso sinceramente da una foto guardarla con le mani cioè da vicino vedete com'è bella lavorata così fatta un pochino bella vedete se vedete io ho fatto anche dei quadrettini vedete all'inizio così dalla fine perché così il lavoro è tutto unico guardate che questa maglia è sempre difficile ma non lo è si lavora andando in due pezzi più le due manichine dei lati vedete questi questi ok l'ho messo un po la tecana un po più vicino così potete vederla bene vedete poi si cuce dal rovescio come sapete vedete non vuole essere fatte tipo nodine di dentro e intendiamoci non cucine cucina nel modo tale che non si veda nulla e si deve cucire così vedete deve essere punto con la trapunta proprio vicino ok così perché poi coincide se vedete la maglia destra la maglia sinistra ok sia la parte di dietro che la parte davanti che volevo farla vedere bene così riuscite anche voi a farla quadrare vedete com'è bella deve esserci fatto questo nodino così cucite non con l'ago ma a cui l'uncinetto metterli da vicino ma proprio vicino e fare tutte maglie bassissime poi alla fine vi faccio vedere come fare bene un'altra volta adesso è niente io Cosa posso dire a un'altra cosa io e questa maglia se avete visto l'ho fatto con in due colori diversi chi vuole la può fare unico colore e un Allora io per questa maglia ho usato in tutto 200 circa 50 grammi di comitolo però volevo sempre precisare che in la mia mano non è uguale alla vostra per cui tenete sempre dei comitoli in più come dico sempre io uso i filati di michele bisco le che troverete dopo sotto il link su facebook naturalmente ripeto su facebook con michele bisco le sul sito autoletto del gomitolo punto com e niente vi faccio vedere la bellezza di questi gomitoli vedete com'è bello bianco argento lame vedete poi ho anche usato come avete visto nella maglia il colore safari vi faccio vedere che bello le cose vederli più bene per capire il perché dico sempre di questi gomitoli sono proprio belli poi sono delle persone molto gentili vi posso garantire perché io ho sempre trovata bene niente vedete vi faccio vedere anche il sacchettino come si presenta le cartine trasparenti vedete mette anche il numero dei ferri dell'uncinetto e quanti metri nel gomitolo vedete sempre di 50 grammi al gomitolo parliamo vedete anche il bianco vedete ok a tutto questo io direi un'altra cosa volevo ricordare che al voto i colori non li potete trovare perché io adesso ho avuto quest'idea a luglio di fare questo colore può essere che quando io l'ho ordinato e in quel momento si può anche finire potete anche usare altri colori si può fare anche un unico colore decidete voi l'importante è realizzarla grazie al tutorial vi dico il multiplo allora scriviamo multiplo di 23 catenelle ok più 2 catenelle io ho messo in totale totale 92 catenelle più 2 cioè 94 cioè 94 ok io si lavora in due pezzi lavoro due pezzi ok più a me le maniche e le spalline va bene io ho usato l'uncinetto numero 3 ok numero 3 numero 3 totale totale con la mia mano naturalmente ve lo dico sempre sono 200 circa 40 grammi 240 sempre sempre liscia non ok spero che su questo è a posto niente passiamo direttamente alle nostre catenelle io ho messo su già le catenelle che interessano a me circa 50 così se vedete qui io l'ho lasciato guardate un attimo lo faccio vedere l'ho lasciato più libero ok perché visto che non si lavora in tondo quando si lavora in due pezzi questo qui si può sfilare se abbiamo messo delle catenelle in più perché se l'inter mettiamo in meno è veramente una bella difficoltà cioè una bella difficoltà invece se li mettiamo in più possiamo sfilare ok niente adesso iniziamo il nostro primo giro il primo giro facciamo saltiamo 5 catenelle perché sono 3 una nostra prima maglia bassa e maglia alta e due sono di catenelle 2 catenelle di separazione per cui cantiamo 1 2 3 4 5 e facciamo la nostra maglia alta ok vedete mi metto bene così potete vedere bene la nostra prima maglia alta noi dobbiamo fare a parte di questa altre 8 magliate totale 9 magliate ok facciamo 9 magliate 2 3 4 5 6 7 7 8 e 9 ok vedete 9 maglietti ok adesso 2 catenelle 1 e 2 saltiamo due catenelle di base andiamo alla terza catenella facciamo la maglietta 123 facciamo una maglietta sempre nella stessa catenella ne facciamo un altro di maglietta e siamo a 2 sempre nella stessa catenella facciamo un'altra maglietta siamo a 3 ok così di nuovo 2 catenelle 1 e 2 alla terza catenella di base facciamo la nostra maglietta 123 questa maglia che facciamo non dobbiamo chiuderla ok ma dobbiamo lasciare qui sull'uncinetto poi andiamo nella valle nella catenella successiva facciamo un altro maglietta siamo a 2 adesso li chiudiamo abbiamo fatto due maglie insieme vedete adesso invece facciamo tre magliette 1 2 2 3 avete visto così adesso rifacciamo due maglie chiuse insieme andiamo nella catenella sottostante facciamo la nostra maglietta e la lasciamo sull'uncinetto prendiamo il filo rifacciamo un'altra maglietta sotto la catenella sottostante e chiudiamo insieme fino perché grande no dobbiamo fare questo giro di nuovo 2 catenelle e ripartiamo di nuovo con le nuove magliette sottiamo 2 catenelle andiamo nella terza e facciamo la nostra prima maglietta la seconda maglietta la terza ok così continuate fatti non 9 magliette poi 2 catenelle sappiamo 2 catenelle di base alla terza facciamo 3 magliette sempre nella stessa catenella ok così poi di nuovo 2 catenelle saltiamo 2 catenelle di base alla terza facciamo 2 magliette chiuse insieme vedete poi 3 magliette 3 magliette l'ho detto poi 2 magliette chiuse insieme di nuovo 2 catenelle 2 catenelle alla terza facciamo la nostra maglietta e continuiamo con le nuove magliette così via finiamo il giro con il nostro le due maglie e chiuso insieme adesso vi faccio vedere con la nostra maglietta una spettate che 1 1 non la chiudiamo naturalmente vedete non chiudiamo e 2 ok abbiamo chiuso la nostra maglia insieme due insieme vedete abbiamo le tre magliette e poi le nostre due chiusi insieme ok adesso facciamo il secondo giro 2 catenelle e giriamo il lavoro adesso dobbiamo chiudere di nuovo le due maglie praticamente questo lavoro si apre si chiude le maglie e due insieme o due poi vedete ok adesso le due catenelle che ho preso il filo andiamo nella prima qui vedete nella prima dove abbiamo chiuso facciamo la nostra maglietta e non la chiudiamo ok andiamo nella maglia successiva e andiamo a fare un'altra maglietta non ho preso il filo scusate riprendiamo il filo rientriamo nella maglia sottostante e chiudiamo in tutte quante un prima uno e poi tutto insieme vedete abbiamo fatto due chiusi insieme vedete così le nostre due catenelle più le due maglie chiuse insieme adesso facciamo una maglietta così e chiudiamo adesso di nuovo dobbiamo richiudere vedete ci sono uno e due ok dobbiamo richiudere queste due maglie prendiamo la prima maglia sottostante e facciamo la mezza maglietta si può dire ok e la lasciamo qui nel filo nell'uncinetto scusate riprendiamo il filo noi mettiamo sotto la maglia sottostante e rifacciamo un'altra volta la maglietta ok abbiamo fatto così adesso chiudiamo tutte insieme vedete abbiamo fatto due chiusi insieme una maglietta e due chiusi insieme ok il nostro secondo giro adesso di nuovo due catenelle fate un po larghe non fate le stette perché poi il lavoro vi si stringe ve lo dico adesso dove abbiamo fatto vedete le tre maglie così adesso in queste quali dobbiamo far diventare cinque in senso che nella prima maglietta facciamo due magliette 1 rientriamo e facciamo la seconda 2 vedete abbiamo fatto seconda maglietta poi nella maglia sottostante facciamo un'altra maglietta 1 e siamo tre vedete rimane l'ultima maglia vedete l'ultima e facciamo un aumento praticamente entriamo facciamo la nostra maglietta vedete abbiamo fatto la nostra maglietta rientriamo rifacciamo la nostra maglietta vedete che abbiamo fatto cinque maglietta due insieme una normale e due insieme ok perché questo viene ad allargare quasi chiude e quasi allarga ok di nuovo due catenelle adesso dove abbiamo fatto vedete le nuove magliette qui dobbiamo stringere praticamente chiudiamo due insieme nella prima maglietta facciamo una maglietta e la lasciamo sull'uncinetto prendiamo il filo andiamo nella seconda maglietta lasciamo il filo e facciamo così vediamo abbiamo fatto adesso chiudiamo tutte in tre insieme ok vedete abbiamo fatto una diminuzione adesso facciamo una prima maglietta poi di nuovo due vedete sottostante lavoro io 2 di nuovo 3 4 e 5 abbiamo fatto 5 magliette perché da 9 diventano 7 vedete 5 adesso entriamo qui nella maglia sottostante facciamo una maglietta e la lasciamo sull'uncinetto riprendiamo il filo e facciamo un'altra maglietta così vedete ok adesso li chiudiamo letto cosa abbiamo fatto lo metto così così potete vedere ok adesso due catenelle 1 e 2 ripartiamo di nuovo dall'inizio praticamente dobbiamo chiudere 2 maglie entriamo nella prima e facciamo la maglietta 1 diamo nella seconda e rifacciamo la maglietta vedete e chiudiamo tutte insieme così una maglietta sottostante così andiamo qui e chiudiamo di nuovo 1 lo lasciamo sull'uncinetto 2 e adesso chiudiamo questo come comincia a diventare il lavoro diventa così che incomincia a farsi la sua formetta adesso di nuovo continuato con due catenelle le due magliette nella maglia sottostante una maglietta e 2 magliette sottostante che deve diventare 5 poi due catenelle iniziate a chiudere qua due poi cinque più due ok ci vediamo al prossimo giro